Buongiorno, sono Susanna Ortolani, candidata nella lista per una Recanati migliore a sostegno di Emanuele Pepa Sindaco. Forse ricorderete il mio incarico come consigliere comunale e spero di aver svolto il mio ruolo con correttezza e determinazione. Sicuramente ci ho messo tutto il mio impegno e lo stesso impegno lo metterò se vorrete dare la fiducia a Emanuele Pepa e a me. I nostri punti programmatici li potete trovare in dettaglio sul sito del candidato sindaco Emanuele Pepa del canati.it scritto tutto attaccato piccolo. Un programma incentrato sulla tutela della vita, della famiglia, dell'ambiente e della solidarietà perché Recanati sia una città pulita, accogliente, viva ed ambiziosa. L'8 e il 9 giugno abbiamo la possibilità di cambiare, insieme possiamo farcela. Sulla scala elettorale insieme a Emanuele Pepa potete barrare anche il simbolo per una Recanati migliore e potete dare fino a due preferenze, un uomo e una donna, in questo caso Ortolani-Loreto. Buon voto a tutti per una Recanati migliore.